La tecnologia e l'innovazione sono un'opportunità, un'opportunità per far crescere le imprese esistenti, un'opportunità per crearne di nuove, specialmente un'opportunità per i giovani. Sto impegnandomi ovviamente insieme all'università, ad altri tipi di imprese industriali per trovare nuove idee che possono avere successo a livello internazionale. Certo a Milano all'interno del Politecnico abbiamo allevato alcune giovane start-up, visto qui a Udine c'è un'area che è qui di friulino-innovazione che ovviamente serve a creare nuove opportunità per i giovani, a creare nuove imprese. Intengo che questa sia una delle strade che va seguita sul territorio, bisogna incentivare a fare imprese, noi abbiamo imprese che adesso hanno 80 dipendenti che sono riusciti a crescere, a competere sui mercati internazionali, a collaborare con l'università per migliorare i propri prodotti e ovviamente a dare lavoro a quelle che sono altrettanti giovani. Grazie